ben tornati nella sala giochi di 80 voglia di arcade e is anche oggi a tenervi compagnia durante questo breve tutorial dove spiegheremo parecchie cose fidatevi rimanete con noi perché oggi parliamo veramente approfonditamente del mame però prima concedetemi un piccolo spazio un grazie un grazie a tutti voi perché abbiamo superato i mille iscritti e noi noi non ce lo aspettavamo in così poco tempo sinceramente ci eravamo dati una scaletta di obiettivi da raggiungere e questo dei mille iscritti era a un anno e invece ci siamo riusciti in soli otto mesi questo però è grazie a voi quindi il primo è incredibile enorme grazie va a tutti voi che ci state supportando che ci scrivete che ci chiedete informazioni che vi fidate di quello che diciamo per noi è importantissimo non ha veramente prezzo questo questo ve lo dovevo dire grazie 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 se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale youtube cliccate sul mi piace mandate il video ai vostri amici se volete e cliccate anche sulla campanella così sarete sempre avvisati delle nuove uscite quando le pubblichiamo ok poi ci sono i nostri social se preferite passare anche sui social instagram twitter e tiktok anche i cani sono d'accordo come sentite hanno detto che anche loro vengono a trovarci su instagram twitter e tiktok ci trovate con lo stesso nome 80 voglia di arcade 80 scritto ovviamente a numero ormai lo sapete e dove trovate una rubrichetta che si chiama un gioco in 45 secondi quello è una piccola pillola di quello che vi aspetta sul canale youtube c'è il nostro sito internet www.80 voglia di arcade punto it o www.strananet.it tanto è la stessa cosa dove trovate anche tutte le info riguardanti il nostro cabinato perché si noi costruiamo cabinati arcade anche tutti pronti oggi parliamo del mame che cos'è il mame il mame è multiple arcade machine emulator è nato grazie ad un ragazzo italiano tanto tempo fa ormai fine anni 90 e grazie a questo progetto tanti giochi degli anni 80 e 90 sono riusciti a non essere dimenticati perché se non avessimo avuto il mame molti giochi adesso sarebbero completamente andati persi tanto tempo fa quando esistevano gli arcade c'erano dei cabinati di legno enormi e dentro una marea di circuiti veramente tanti integrati delle schede su schede e un chip per solo per i testi è un chip solo per le immagini è un chip solo per il sonoro c'era veramente erano delle cose enormi quindi questo ragazzo italiano ha avuto questa bellissima idea di realizzare un emulatore che emulasse tutte queste schede e grazie a questo emulatore adesso noi possiamo rigiocare a tutti quei giochi che altrimenti oggi sarebbero ve l'ho detto persi dimenticati non pensate che sia facile perché tante volte quando noi facciamo delle recensioni di ecco bato c'era altri cose va bene ma c'è il mame non è così facile il mame ha una sua logica ok partiamo da questo presupposto ve la spiego andando sul sito ufficiale come vedete qui allora intanto il sito ufficiale è www.mamedev.org siamo arrivati alla versione 0.2 5 7 il mame è uno di quegli emulatori che viene aggiornato molto spesso tanto veramente una volta ogni due mesi addirittura a certe volte una volta al mese se voi cliccate su mame 0 2 5 7 trovate tutte le modifiche di questa versione ovvero questi sono tutti i bug che sono stati risolti questi sono i nuovi sistemi che sono supportati questi sono i nuovi cloni che che funzionano questi sono i sistemi che prima non funzionavano adesso sono stati promossi a funzionanti eccetera 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 quindi ogni versione di mame ha delle modifiche ok andatele sempre a leggere magari c'era un gioco che prima non funzionava adesso funziona dunque latest release andiamo a prendere la versione 64 bit per windows ok la scarichiamo è un exe lo mettiamo sul nostro computer e ricordiamoci questo numero 0.257 perché questo è importantissimo tanta gente mi dice sai ma io ho preso il mame le rom non mi funzionano ovvio perché allora il mame è l'unico emulatore che ogni volta che c'è una nuova versione tutte le rom esistenti vengono ricompilate nuovamente ok ecco perché tanti dicono ma io ho scaricato il mame poi la rom non mi funzionano le rom non scaricate 27 diverse nessuna se voi scaricate il mame 0.257 dovete obbligatoriamente scaricare le rom per il rom set 0.257 se scaricate quello dello 0.139 che era di 15 anni fa sullo 0.257 non funzionano mi pare ovvio no ci sono dei casi in cui alcuni alcune rom funzionano ma è a caso ok perché perché magari dalla versione 0.139 alla 0.257 non sono mai state toccate sono semplicemente state ricompilate quindi quello funziona non lo date per scontato quindi se oggi cominciate dito che mi voglio fare una mia installazione del mame me la tengo sul mio computer ci voglio giocare e prendete la 0.257 dovete per forza scaricare le rom della 0.257 chiarissimo questo concetto altre casistiche ho scaricato batocera nella nella cartella arcade ci ho messo le rom del mame quali ci avete messo perché perché batocera anche contiene il mame ed ha tre emulatori quindi quando voi mettete una rom del mame con batocera potete scegliere se farla partire con mame 0.78 che sarebbe mame 2003 mame 0.139 che sarebbe mame 2010 o mame current ve lo dico come è scritto sarebbe mame current che è la versione corrente quindi se batocera voi ce l'avete tutto aggiornato la versione mame current è la 0.257 ok se ci mettete le rom della 0.251 non ve partono è chiaro insomma no ripetiamo insieme la versione del mame va insieme alla versione delle rom detto questo ci sono in giro tantissimi launch box tanti sistemi tipo batocera c'è retro arc c'è emulation station emuelec di tutto all'interno tutte queste piattaforme hanno una versione del mame ora per batocera retro arc c'è anche la versione mame current quindi corrente per altri leggete perché nelle specifiche c'è scritto al 99 per cento quasi tutti supportano la 0.78 e la 0.139 perché sono state le due versioni del mame più più fornite e più stabili anche le pandora box le migliaia di pandora box che stanno in giro lambernic le console portatili hanno tutte la 0.78 o la 0.30 non ne hanno altre perché erano quelle più supportate quelle che non avevano bug funzionavano benissimo e quindi perché cambiarle una volta che comunque tu ci hai messo il rom set completo delle rom 0.78 0.139 non c'è senso aggiornarlo no perché magari tra la 0.139 e la 0.257 sono stati aggiunti 200 giochi l'altri 5.700 funzionavano quindi è inutile che io aggiorno una versione di mame solo per 200 giochi a meno che lì non c'era proprio quel gioco che volevo io e allora sono costretto ad aggiornarla però i numeri che vi dovete tenere a mente sono 0.78 0.139 e la versione corrente la versione corrente cambia ogni mese anche ogni due dipende da quando lo aggiornano ma se controllate il sito è quella facendoti la tua installazione di mame e la faccio oggi e mi faccio mi scarico la 0.257 mi prendo tutto il rom set quindi magari sono arrivati adesso non ho contato ma forse 12.000 giochi 13.000 giochi perché ci sono anche i cloni ci sono tutti i mahjong giapponesi che tanto non ci giocheremo mai però mi faccio un mazzo tanto riesco a trovare un rom set completo non è che se domani esce la 0.258 io me la vado ad aggiornare perché sono matto se mi funziona questa e c'ho tutti i giochi per quella versione io me la tengo almeno due anni capito qual è il concetto a meno che in questi due anni quando vado a vedere sul sito del del mame mi dicono a nuovo gioco supportato questo gioco io cercavo a vedi finalmente supportato allora in quel caso me la aggiorno ma se non esce un gioco che io sto cercando non me la aggiorno quindi prendete una versione di mame trovatevi il vostro rom set per quella versione di mame e questo fate ok torniamo a noi scaricando il l'eseguibile lo andiamo a installare in questo caso lui si scompatta io l'ho già fatto e si scompatta adesso ve lo faccio vedere io l'ho scompattato nella cartella mame eccola qua nel disco d scompattato esce fuori questo ci sono degli eseguibili c'è una cartella roms c'è una cartella samples snap plugins cheat io ho messo anche cheat questa è una cosa a parte si scarica un file zip poi ve lo spiego la cartella degli artwork allora la cartella degli artwork potrebbe anche non esserci però adesso vi spiego finito di scompattare il mame c'è l'eseguibile cliccate su mame doppio clic e lui parte ok facilissimo qui non dovete fare niente perché già tutto configurato come vedete ci sono tutte le rom supportate da questa versione guardate la mia io non l'ho cambiata è la 0.250 ok io ho 74 bios e 39.392 rom che sono quasi tutti i cloni cioè per esempio come vedete vedi di secret secret agent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 perché comunque contano anche i bootleg quindi il gioco è uno però c'è una nuove versioni questo è il succo ci potete avere anche 40 mila rom ma se tanto i giochi sono 7 mila gli altri sono tutti tutti i doppioni però ecco qui avete tutta la i filtri già fatti disponibile non disponibile funziona non funziona categoria i bios che ci stanno genitori cloni produttore insomma posso salvataggio supportato salvataggio non supportato già ho delle dei filtri gene automatico quello che più vi interessa è il disponibile ok facciamo un passo indietro ovviamente quando voi lo scaricate la cartella roms è vuota non c'è niente in questo caso c'è qualcosa perché io che cosa ho fatto io ho fatto quello che tutti mi chiedono senti ma come faccio a trovare le rom guarda ve lo faccio vedere è facilissimo perché soprattutto quelle del mame sono quasi tutte abandonware ok andate su google io ricordate che versione avevo la 0.250 quindi faccio mame rom set 0.250 perché è quella che ho io ok e quindi qui trovo per esempio già un qualche cosa se io invece volessi cercare quelle per oggi che siamo allo 0.257 clicco e faccio mame 0.2 rom set mi raccomando rom set perché non è roms il rom 7 proprio un set completo ed è esce qui questa la prima è quella di internet archivo che generalmente va benissimo funziona quindi andiamo a vedere questa parte qui e quindi vedo intanto lui mi rimanda se ci fosse necessità posso scaricare qui l'ultima versione del mame il set dei bios la parte delle rom merged significa unite lì dove per una rom allora merged slice pie che io avevo che avete visto in nove copie se ce l'avessi merged sarebbe uno un solo file zip però quando il mame ci va sopra ne legge nove di giochi perché sono contenuti all'interno di un file invece il non merged dove alcune volte lo vedrete vuol dire che se ci sono nove versioni di quel gioco io avrò nove file zip diversi questa è la differenza tra merged e non merged ok andiamo a vedere qui ci sono qua vedete qui a destra 14.385 file invece di cliccare qui perché se io clicca sli mi darebbe errore già lo so perché sono troppi file vado su show all e mi fa vedere quale sarebbe l'interno del file zip che scarico ma non me lo scarico perché sono troppi vado su mame merged e qui ci sono tutte le rom una per una vedete tutte quante tutte 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 ma non so quante sono saranno parecchie se voi ci fate tasto destro salva collegamento con nome salvate quella rom però sa 14.000 potete fare tutti insieme una per una diventate matti vi consiglio un programmino che si chiama j downloader lo scaricate copiate questo indirizzo qua sopra vedete di questa pagina qui questa dove ci sono tutti i file zip tasto destro copia aprite j downloader non so se ce l'ho fammi vedere un attimo sì ce l'ho ce l'ho avevo lasciato ve lo faccio vedere come appare ecco j downloader ok vado su cattura collegamenti aggiungi nuovo e lui già si è preso la pagina che avevo copiato vedete quella è la pagina che avevo copiato dove me le voglio scaricare me le scarico dentro sicuramente non qui dentro e mame roms che voi avrete vuota io ce l'ho piena ma voi ce l'avrete vuota faccio salva vedete e mame roms estrazione automatica mi raccomando non la abilitate se la vedete abilitata non la abilitate perché sennò per ogni zip ve fa una cartella e ve la estrae no perché per le rom non serve se io faccio continua lui adesso sta scansionando la pagina con tutti i file zip guardate qui a destra vedete archivio 893 adesso sta andando 1865 lui si scansiona tutta la pagina e vi dice in questa pagina ho trovato 32 file un file documento 4 file immagine e che ne so 20.000 file zip selezionate solo gli archivi tanto tutto il resto non vi serve e fate qua sotto in basso vedete qua avvia tutti i download lui parte e nella cartella roms vi scarica uno per uno tutti i file zip così avete risolto il problema che quei file non vi si scaricano ok perché sono quelli perché sono tanti altrimenti da archive.org se cliccate lì su download lui vi fa un file zip con dentro tutti e 10.000 le rom ma quando supera un certo numero vi dice il file è troppo grosso per ovviare a questo problema cioè scaricate jdownloader ve lo installate e fate questa cosa che vi ho appena fatto vedere ok facile facile adesso io non faccio partire il download se no siamo qui fino a domani esci da jdownloader tutto chiaro benissimo una volta che avete scaricato le rom siete pronti per giocare aprite il mame andate nella cartella dove avete scompattato l'emulatore cliccate su mame.exe e lui parte e voi potete giocare ovviamente non vi appariranno le copertine non vi appariranno i cheat quello è tutto un in più come fate a cercare le copertine stessa cosa aprite google e cercate mame artwork e lui vi fa vedere dei dei siti dove potete scaricare semplicemente la cartella dove dentro ci sono tutti gli screenshot tutte le diciture facile facile ve la prendete la mettete dentro al disco di come guardate la mia guardate è questa qua dentro mame c'è artwork oppure mame snap ecco gli snap cercate mame snap c'è un file zip ve lo scaricate dentro ci sono già tutte le immagini nominate come come devono essere nominate così quando partirà e farete partire il mame lui vi farà vedere qui a destra l'immaginina eccola qua vedete per ogni gioco vi fa vedere un'immaginina questa cosa può essere fatta anche con i video può essere fatta con tantissime cose però poi vi è andata ad appesantire il computer l'immaginina basta e avanza secondo me poi se vi piace il video mettete il video è assolutamente liberissimi di farlo poi c'è il file dei cheat io l'ho scaricato si trova ed è questo qui cheat.7zip perché io lo aprite con 7zip come vedete ci sono dentro tutte le cartelle una per ogni rom del mame voi non dovete non dovete far altro che estrarre questo file zip qui dentro nella cartella cheat si deve chiamare proprio cheat altrimenti non lo vede anzi no non c'è neanche bisogno quello se lo crea lui basta semplicemente avere il file zippato all'interno della cartella mame a che serve quello quando io lancio il mame e ad esempio vado su 1942 revision b lo faccio partire con il tasto tab della tastiera apro il menu dei deep switch una volta che io ho quel file cheat.7zip dentro la cartella mame mi appare questo trucco se ce l'avete in italiano se ce l'avete in inglese cheat quando io ci entro posso scegliere credit infiniti vite infinite loop infiniti invincibilità posso colpire ovunque no si select fire type normal file power up fire cioè posso ogni gioco ha la sua collezione di cheat ok mettiamola così per alcuni ad alcuni piace giocare così a me no sinceramente che altro posso farvi vedere quando già che ci stavamo ecco il menu tab quando siete sul mame all'interno di un gioco vi permette ad esempio di andare a impostare i deep switch cosa sono i deep switch i cabinati arcade avevano delle levette piccoline c'erano dei circuiti con delle levette 0 1 codice binario che vi permettevano di impostare questi deep switch andiamo a vedere questi sono i deep switch di 1900 scusate aspetta deep switch ok il deep switch 1 vi potevate metterlo per stabilire un coin non credit vedete sotto guardate dove c'è scritto sva switch a switch b coin a se io cambio a 2 coins 3 credits gli ultimi 3 switch gialli vi faceva vedere come erano impostati sulla scheda vedete il terzo ultimo in alto gli ultimi 2 in basso se faccio un coin non credit vedete quelli cambiano quelli erano 0 e 1 quando la macchina veniva accesa il software che si caricava pochi byte leggeva lo stato di quei deep switch e si configurava cabinet upright cocktail bonus life a 20 80 80 oppure a 20 100 e 100 30 80 80 vedete questo quante vite dare service mode off on flip screen off on difficulty normal difficult very difficult screen stop on off questo alcuni bar o alcune sale giochi mettevano la difficoltà a difficile tanta gente mi dice ma sai che io andavo in un bar lo finivo vado in un'altra sala giochi e non riesco ad arrivare al secondo livello probabilmente i deep switch di quella sala giochi erano impostati a difficile oppure quelli erano normali in un'altra sala giochi avevate l'imposazione a facile può succedere e lo si faceva doveva spendere soldi info credit e tempi di utilizzo system information qui vi dà le informazioni sul sulla rom su quello che state emulando vedete driver capcom cpu 2x z z 80 a 3 megahertz due speaker video 256 x 224 ma di che parliamo regolazione cursori opzioni video schermo 0 snapshot 3 quarti 7 ottavi cocktail eccetera 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 con il tasto tab una volta partito il mame sulla tastiera potete sistemarvi un bel po di cose compresi i tasti anche solo per questo gioco vedete input assignments this system ovvero questo gioco non vale per gli altri questo è solo per 1942 se invece andate qua su input assignments general questo va per tutte le rom quindi qualsiasi gioco del mame utilizzerà questi nuovi assignment che fate qui mentre questo è solo per questo gioco possiamo chiudere questo menu e abbiamo parlato del mame usciamo c'è la possibilità di andare a vedere se ci sono dei bios mancanti qui ci sono ecco general settings personalizza why configura cartelle opzioni video opzioni audio opzioni varie input device options opzioni avanzate se questo vale sempre la stesso lo stesso discorso se non sapete cosa andate a toccare non lo toccate è già tutto configurato non dovete preoccuparvi di nulla salvataggi rewind c'è tutto qui c'è tutto quello che possiate desiderare allora nei plugin ci sono delle cose che volendo potete attivare come ad esempio l'ice core support io ce l'ho attivato sul vostro mame tutti i punteggi alti che fate vengono salvati in un file quindi quando ripartite e lanciate lo stesso gioco anche a distanza di mesi gli ice core vengono comunque tenuti non si resettano questo è ottimo se magari vi piace magari giocare con gli amici e quando vengono a casa tenere salvati i vostri punteggi è comodo c'è l'autofire c'è tutto input devices potete scegliere player 1 player 2 player 3 player 4 supporta fino a otto giocatori mi sembra il mame 8 controller diversi torno al menu precedente e siamo di nuovo qui dopo di che questo è un'infarinata generale su come funziona il mame non pensate sia facile ve l'ho detto non è non è proprio facile non è non è facile per niente anzi la prima volta quando lo installate vi sembra complicato perché non capirete subito questa cosa delle versioni io ho notato che quando cerco di spiegarlo alle persone tutti non capiscono spero di avervi chiarito un po la situazione perché a quanto pare cercare i giochi che funzionino per la vostra versione di mame era la cosa più complicata che nessuno riusciva a fare spero di avervi aiutato a capire come funziona la numerazione del mame perché ci sono quei numeri e che cosa vuol dire mame 078 mame 0139 e mame current che tante volte le persone me lo chiedevano se avete domande come sempre siamo qua lo scrivete nei commenti rispondiamo sempre e non mi rimane altro che invitarvi ad iscrivervi al nostro canale se ancora non l'avete fatto ci fa piacere ci trovate qui su youtube con il nome di 80 voglia di arcade cliccate il mi piace mettete un commentino che ci fa piacere scoprire anche la vostra opinione su quello che recensiamo e sulle guide e poi cliccate la campanella così saprete sempre che è uscito un nuovo gioco un nuovo una nuova recensione perché youtube vi avviserà della nuova uscita passate sui nostri social instagram twitter e tik tok dove ci trovate sempre con lo stesso nome 80 voglia di arcade in ultimo ma non meno importante c'è il nostro sito internet www.strananet.it oppure www.80 voglia di arcade.it tanto è la stessa cosa sempre su strana net arrivate detto questo noi ci vediamo la prossima il prossimo giovedì con un gioco perché adesso abbiamo fatto una guida facciamo un gioco ok ciao a tutti ciao a tutti